Fegati, 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 spappolati! Chissà quanti fegati spappolati ci saranno tra gli anti-juventini e magari anche tra qualche juventino che cerca sempre di iettare il peggio, non si sa ancora perché, sulla sua stessa squadra. La Juve vince ancora una volta, vince 3-1 sul campo della Sampdoria Marassi, una partita difficile, molto difficile, che si era messa sui binari giusti. La Juventus si è ritrovata con questo vantaggio, con un tiro forte ancora una volta in mezzo all'area di quadrado e ancora una volta deviato da un difensore avversario. Autogol e la Juve passa in vantaggio. Poi rigore, adesso parleremo, vi dirò chi sono i quattro protagonisti di questa partita, secondo me. Rigore procurato da Ken, segnato da Alvaro Morata. La Juve va sul 2-0, ma poi la Sampdoria sale un pochino in cattedra. La Juventus si schiaccia, come spesso, troppo spesso vediamo accadere. Rigore per la Sampdoria con questo braccio di Ravio, adesso approfondiamo. E ragazzi, Superman. Ho visto Superman volare e prendere quel dannato calcio di rigore. Wojciech Czesny l'ha presa in maniera fantastica. È difficile vedere parate su calci di rigore. Sono molto più spesso rigori sbagliati, anche quando il portiere riesce a prenderla, ma in questo caso l'ha proprio parata Wojciech. E poi però la sfortuna che su un calcio di punizione di un Arthur, che secondo me ha brillato in molte occasioni come gestione controllo palla, però secondo me ancora una volta troppi errori in fase di passaggi e fraseggi, sul breve soprattutto, commette questo fallo. La Sampdoria con questo calcio di punizione si accorcia le distanze perché Alvaro Morata, che secondo me, ve lo dico subito, è stato il migliore della Juventus questa sera, di schiena. Si gira di schiena, la devia purtroppo e spiazza a Czesny. Per fortuna, sempre lui, Alvaro Morata, ancora una volta segna la sua doppietta della serata con questo cross bellissimo di Locatelli. E Morata sul secondo palo la spizza sulla linea, all'altezza della linea, il portiere se la ritrova tra le gambe e se la butta in porta da solo. La Juventus vince 3-1 e sono quattro i protagonisti di questa mia analisi. Moise Ken, Adrienne Rabiot, Wojciech Czesny e Alvaro Morata. Allora, Moise Ken, poi parentesi, domani, come al solito, the day after, vi farò le pagelle. Quindi con più calma daremo i voti, l'analisi di chi ha giocato bene, chi ha giocato male. Domani approfondiremo, però oggi vi voglio parlare di questi quattro protagonisti. Allora, appunto, stavo dicendo Moise Ken, che secondo me ha giocato la sua miglior partita della stagione, ha fatto un lavoro egregio, ha lottato come veramente una bestia su tantissimi palloni, si è procurato il rigore del 2-0 momentaneo della Juve e poi si è fatto trovare un paio di occasioni lì pronto per buttarla verso la porta. Purtroppo non ce l'ha fatta, però Moise Ken mi è piaciuto veramente tanto. Poi sostituito da Vlaovic, che era momentaneamente in panchina. Perché? Perché Vlaovic, ovviamente, fra tre giorni, quattro giorni, abbiamo la Champions League, quindi Vlaovic si è fatto riposare, giustamente, e perché è anche diffidato. Cioè Vlaovic ha questa diffida che gli pende sulla testa, quindi ha la prima munizione e salta la partita dopo. La prossima partita di campionato sarà quella contro la Salernitana, quindi secondo me Vlaovic lì non lo vediamo proprio in campo. perché poi quella dopo è contro l'Inter, quindi non si può rischiare di non avere Vlaovic contro l'Inter, quindi sicuramente diamo per scontato che quella Salernitana non vedrà il campo. Ma ad ogni modo, il secondo protagonista, Adrienne Rabiot. Adrienne Rabiot, purtroppo, ora, io vi dico, sono contentissimo del risultato, sono contento della Juventus che ho visto questa sera perché mi è piaciuta a lunghissimi tratti. Mi è piaciuto l'atteggiamento, mi sono piaciute delle idee, ho visto ancora commettere tanti errori individuali, tanti, ma ne parliamo domani nelle pagelle, ma non è momento di sottolineare questi errori. Come vi ho detto l'altra volta, dobbiamo solo fare risultati positivi. Il bel gioco, chi se ne frega ragazzi, chi se ne frega. Ma questa sera, questa sera, a lunghi tratti, ho visto anche un bel gioco, ho visto anche una buona Juventus. Poi ci siamo impappinati, come al solito, ci stanchiamo, crolliamo, stacchiamo la testa e l'avversario fa il possibile. Per fortuna stasera si erano avvicinati sul 2-1, ma siamo riusciti a staccarli subito rifacendo il 3-1 e quindi lì siamo stati abbastanza tranquilli. Ma è una Juventus che in tutte le partite di questa stagione si sta complicando la vita da sola. Ad ogni modo, stavo dicendo, Adrienne Rabiot, il peggiore in campo. Il peggiore della Juve, ancora una volta, ha fatto errori incredibili, costantemente. In continuazione, a centrocampo non ne teneva una, non è mai ripartito. A fraseggiare con Artur perdeva palloni. Insomma, tanti, tanti, tanti errori, anche di posizionamento, secondo me, e alla fine l'errore cruciale, già ammonito Rabiot, che allarga il braccio, dentro l'area di rigore, danno il rigore alla Sampdoria, rischiando di prendere il secondo giallo. Allegri, anche qua vi darò il voto domani, ma sappiate che Allegri stasera mi è piaciuto, ok? Non sto scherzando, sapete che io non amo particolarmente Massimiliano Allegri, ma questa sera mi è piaciuto. Come ha messo in campo gli uomini, come ha intervenuto subito nella partita. Ha visto Rabiot ammunito, calcio di rigore dato alla Juve, subito fuori, fuori. Questo è l'errore che aveva commesso l'altra sera Simone Inzaghi, non togliendo in tempo Sanchez, che poi è stato espulso. Bisogna che gli allenatori siano veloci a prendere delle decisioni. Questa sera Allegri, bravo, ha tolto Rabiot, che oltre a giocare in maniera vergognosa in generale, continua a non piacermi, costantemente, non c'è mai un momento in cui mi sorprende, in più stava combinando la frittata e quindi Allegri ha tolto Rabiot e poi dopo ha tolto anche Pellegrini, anche lui ha munito a rischio, ha messo De Sciglio. Ad ogni modo, il terzo protagonista della serata è Wojciech Cesni, è stato mostruoso, non solo in occasione del calcio di rigore, che prima vi ho detto, aver fatto una vera e propria parata alla Superman, un vero e proprio volo col braccio alto, significa andarla a parare quella palla. Bello il carisma, bravo in altre occasioni, sempre presente nella nostra porta e quindi Cesni ti ringraziamo tutti perché ovviamente ti abbiamo tutti messo in discussione nelle prime due o tre giornate perché avevi combinato delle papere una dietro l'altra, ma sappiamo che sei un portiere molto affidabile e un grandissimo Juventino nel cuore. Il quarto protagonista e ultimo e poi vi saluto ci vediamo domani nelle pagelle. Il quarto protagonista è sicuramente Alvaro Morata, che ancora una volta per me è stato il migliore della Juventus questa sera, per spirito di sacrificio, per abbenegazione, per voglia, per la corsa. Quante volte ho visto partire Morata palla al piede, aveva una qualità eccezionale questa sera. Si è visto, non sempre si vede, questa sera si è visto che Morata è un giocatore di esperienza, che molto spesso mettiamo tutti in discussione, perché non è il centroavanti o l'attaccante più forte del mondo, siamo tutti d'accordo, ma ci dimentichiamo che Morata ha alle spalle tanta esperienza e anche ottime doti tecniche. Questa sera ha messo in campo il meglio che poteva fare, il tiro, il colpo di testa, lo smarcamento, la corsa, tante 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 cose belle ho visto fare ad Alvaro Morata, era ovunque e quindi secondo me è partita enorme, gigantesca di Alvaro Morata. Ragazzi, bisogna sorridere, bisogna essere contenti e bisogna gufare. Guffare tanto, 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 perché se vogliamo avere una piccola speranza di stare un po' più sereni, avere matematico e garantito un quarto posto, addirittura avere magari un terzo posto, io di più non mi spingo perché non ci credo ragazzi che andiamo oltre il terzo, ve lo dico sinceramente, domani dobbiamo sperare che il Verona batta il Napoli e dobbiamo sperare che i nostri cugini del Torino battano l'Inter. In questo caso ancora una volta sarebbe una giornata in cui la Juve recupera punti su chi le sta davanti ed è, sarebbe meraviglioso ancora una volta. Ragazzi, Forza Juve ce l'abbiamo fatta, è stata una bella partita ricordo, non facilissima da portare a casa, soprattutto in un certo momento, un quarto d'ora, venti minuti, un po' di sofferenza ci sono stati ma abbiamo sofferto di più in altre occasioni quindi sono molto 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 contento di quello che ho visto. Forza Juve adesso, da questo preciso momento, la nostra testa è in Champions League perché col Villarreal dobbiamo assolutamente vincere, quindi tutte le nostre forze mentali, tutto il nostro tifo compatto per la Juve in questo momento. Ciao ragazzi, alla prossima!